La squadra mobile dell'acquistura di Oristano ha arrestato per il reato di furto in abitazione e porto abusivo di armi Aurelien Eugène, classe 1994, cittadino francese di Etnia, Rom, senza fissa dimora ma domiciliato a San Nicolo d'Arcidano. A carico dell'individuo, la procura della Repubblica di Cagliari aveva emesso tempo fa un ordine di carcerazione al quale gli agenti, a seguito di rapide indagini, hanno dato esecuzione lo scorso 15 gennaio. Lo stesso soggetto era stato denunciato qualche mese fa per aver abusivamente occupato insieme ad altri Rom una villetta nel comune di Oristano, dalla quale era stato coattivamente allontanato. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato arrestato e portato nelle carceri di Massama dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 800 euro.